Salve a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Allora, come preannunciato, cominciamo a parlare di questa vicenda, si può dire ormai infinita, perché possiamo vedere la data, 21 agosto 1968, quindi ben 55 anni fa, vicenda intricatissima, vicenda che tuttora tocca i nervi della popolazione italiana, in quanto per ovvie motivazioni, già lo sapete, i responsabili, anzi scusate, pardon, lapsus, il responsabile di questi delitti non è mai stato catturato e sono stati ingiustamente additati come tali i tre poveri contadinelli toscani, come sapete bene, e per comprendere un po' anche la genesi degli errori giudiziari di questa vicenda, credo che sia doveroso ripercorrerla in maniera precisa, passo per passo, punto per punto, e come non parlare del delitto del 68, che poi è il delitto che dà la stura alla storia del mostro, per così dire, ok? Allora, non mi soffermerò qui a spiegarvi o a dirvi perlomeno la mia teoria, cioè se il delitto del 68 rientra a pieno titolo tra la serie omicidiaria a carico del mostro. In questa serie podcast, nelle prime puntate, limiterò semplicemente a raccontarvi i fatti per quelli che erano, per come furono. Quindi lascerò in una seconda parte, in una seconda fase del podcast, spazio alle mie valutazioni personali circa la mia visione, appunto, di questa vicenda, ok? Quindi è così che voglio impostare un po' questo viaggio all'insegna di questa vicenda, che a noi toscani, non vi nascondo, tocca molto la nervatura, ecco, e forse alcune persone dovrebbero andare a farsi un po' di cura, psichiatrica al riguardo, ma questo è un altro discorso, perché poi si va in un argomento che esuda dal mio podcast, quindi rimaniamo sul tema della puntata. Allora, ragazzi, come vedete questa è una comparazione che io ho fatto con il semplice software di montaggio fotografico, Picasso, Photoshop, come vedete, è una comparazione tra com'era la scena del crimine a Castelletti di Signa nel 1968 e com'è oggi, oggi in realtà siano già passati due anni quando andai con il mio amico Luca Mirri, alias Scuffio, nel febbraio del 2021, se non erro, questa vedete è la mia ombra che fa la foto con quel telefonino Canon, non mi ricordo se avevo ancora la Canon, e poi l'ho montato appunto su Picasso, quindi vedete, più o meno sono cambiato un po' di cose, no? Qui non c'era lo strapieno evidente che invece vedete qua, quindi qui è pericolosissimo camminare proprio filo filo d'argine, rischiate di cadere nel lago Vingone, nel fiume Vingone, scusate. Mentre qui vedete c'era proprio una protezione data dalla vegetazione, più o meno qui è rimasto tutto come era prima, cioè o meglio scusate, sì esatto, qui è rimasto come era prima, insomma le varie erbacce. Cos'è cambiato? Che non c'è più l'asfalto, non c'è più, scusate, non l'asfalto, il pietrisco, quindi non è più accessibile in macchina questa zona, perché di fatto è stata trasformata in zona prettamente erbosa, vedete, e non vi è più possibile entrare, addirittura non so se è proprietà privata, ma credo di sì, tanto è vero che non è possibile neanche poter costruire delle croci, no? Le famose croci in memoria delle vittime, vedete, perché è territorio privato, in questo caso negli anni poi piano piano è diventato proprietà, apporre delle croci appunto, è proprietà privata, quindi non è possibile, non mi veniva il termine, scusate, non mi veniva il termine, quindi era un attimo in crisi, non è possibile apporre delle croci, delle targhe commemorative a questi due giovani, perché appunto è proprietà privata. Bene, quindi questa è una mia comparazione così a titolo personale che ho fatto, perché mi interessava capire come erano cambiate le zone dei delitti negli anni. Vi dico anche che solitamente verso la zona, scusate, verso il periodo estivo viene anche effettuata una rasatura proprio, una tosatura dell'erba, delle piantacce circostanti per ripulire un po' la zona, perché come vedete è veramente una zona molto bella, qui davanti ci sono le montagne, c'è una bella vista. Penso che gli abitanti che abitano nelle vicinanze la usino anche proprio come luogo di camminata, perché spesso noi quando andavamo, io con Luca, Samuel, con Valerio Scrivo, insomma, a fare i sopralluoghi, spesso e volentieri vedevamo molte persone camminare nella zona, quindi è una zona pedestre, diciamo, molto nota nella zona, immagino. Ok, quindi mi interessava farvi vedere questa comparazione dal 1968 al 1900, scusate, al 2021, quindi ben la bellezza di 53 anni dopo. Allora, come nasce questa storia, nasce perché partiamo dal principio, c'è una famiglia di origine sarda, trapiantata, trasferita, come succedeva appunto all'epoca, molto frequentemente, anche io sono figlia di immigrati siciliani dalla Sicilia alla Toscana, immigrati trapiantati, passatemi il termine, al Castelletti di Signa, come vedete, quindi Firenze, zona così al confine tra Prato e Firenze, molto vicino a Campi Bisenzio e molto vicino a Sant'Angelo all'Ecore. Questa famiglia sarda è composta dalla famiglia E di Stefano Mele e di Barbara Locci, che sono queste due figure. Stefano Mele è il marito di Barbara Locci. Barbara Locci nasce l'8 giugno 1937 a Villa Salto, in provincia di Cagliari. Si trasferisce inizialmente alla Romola, nel comune di San Casciano Val di Pesa, negli anni 60. Ha quattro fratelli e, diciamo, in una specie di matrimonio combinato, le viene fatto incontrare, sposare dal padre Palmiro Mele, padre di Stefano Mele, Stefano Mele, appunto, che è questo uomo, gran lavoratore, di quasi vent'anni più di lei, anche perché l'era del 37, lui invece era nato a Fordongianus, in provincia di Cagliari, il 13 gennaio del 1919, ok? Quindi sono 17-18 anni più di lei, che per i miei standard non sono niente, ma, insomma, non era molto frequente all'epoca sposarsi con un grande differenza di età. Chi sono questi due personaggi? Allora, Stefano Mele è una persona che non è proprio uno sveglio aitante giovanotto, ecco, gran lavoratore, ma certamente, vi metto le foto, certamente non si può dire che fosse un aitante giovanotto, bensì era una persona fortemente tendente ad essere succube degli altri, come vi dicevo, gran lavoratore, ma certamente una persona molto fragile da un punto di vista psichico. Il cosiddetto oligofrenico termine è che, attenzione, con un effetto di risonanza cinematografica, così come un richiamo, come un ricorso storico, come avrebbe detto il buon Giambattista Vico, ritornerà ben 20-30 anni dopo, quindi tenete a mente questo termine perché riciccerà fuori, ok? Bene, allora, quindi Stefano Mele personalità un po' così, Barbara Locci, donna più furba di lui in questo senso, ma con un brutto vizietto. Qual è questo brutto vizietto? Affetta, secondo me, a quella che oggi forse sarebbe stata diagnosticata senza problemi con quella che è una patologia non tanto diffusa, ma che esiste, cioè la ninfomania. Ora, allora, vi faccio vedere Stefano Mele, ho soltanto una foto di lui anziano, quindi chiedo Venia se non posso farvi vedere una foto di lui da giovane, anzi adesso ve la cerco, però ecco, questo è Stefano Mele negli ultimi anni di vita, verso gli anni 70-80 e perché parlo di ninfomania? Perché il buon Stefano Mele, appunto, no scusate, la buona Barbara Locci aveva un po' di, come dire, una compulsività per il sesso, ok? E, insomma, certamente questa cosa creava non pochi problemi alla famiglia di Stefano Mele, non tanto a Stefano Mele ragazzi, attenzione, ma proprio a famiglia di Stefano Mele perché vedeva giustamente questa cosa come un'onta, ok? Un'onta. Quindi, quindi, per rendervi un po' chiaro il quadro della situazione, questa donna veramente, scusate il termine, si faceva la qualunque, poi a beneficio dei miei amici maschi e anche dei miei amici mostrologi, molti mi dicono, ma sai, semplicemente potrebbe essere uno a cui piaceva molto il sesso, no. Perché anche coloro a cui piace molto il sesso, donne molto sessualmente disinibite, ragazzi, non è detto che facciano sesso sempre e comunque, sempre con tutti. Non è assolutamente vero. Vi faccio vedere com'era da giovane, cioè, proprio nell'anno in cui è stato ucciso la moglie, proprio nei giorni in cui fu arrestato, eh? quindi avete proprio la, avete proprio la visione di Mele. Eccolo, questo è Stefano Mele ai tempi del delitto. Perché non è detto che se ti piace fare sesso, anche se ti arriva Alvaro Vitali, che certo non si può dire essere uno affascinante e tu gliela dai. Non funziona così. Barbara Locci aveva una compulsività che non, verso il sesso, che non può essere ascritta, eh, ad una semplice, eh, libertà sessuale, un po' antelitteram, nel, 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 nel lontano sessantotto, un po' da outsider, un po' da controcorrente, secondo la tendenza dell'epoca, poi figuratevi, famiglia del sud. Non è così. Io sono convinta, e ne ho parlato anche con Valerio Scrivo in più occasioni, che Barbara Locci fosse proprio, affitta, ehm, scusate, affetta da una vera e propria patologia psichica, che è appunto la linfomania. Tant'è che intraprendeva rapporti sessuali anche promiscui. Mi potrei anche avventurare a dire, anche se non sono psicologa, che non escludo anche un possibile profilo di borderline. non so se sapete, il, il borderline è uno dei, eh, disturbi di personalità nel, DMS, nel, nel, DSM-5, il manuale di psicologia internazionale, ehm, del cluster B, così detto, catalogato secondo il DSM-5. E, ehm, appunto, come, ehm, vi stavo dicendo, la, questa Barbara Locci intraprendeva rapporti, ehm, sessuali, proprio, ehm, con tutti. Con tutti, anche facendo orge. E il disturbo borderline si caratterizza proprio da promiscuità sessuale, dipendenza affettiva, tendenza a legarsi a persone narcisistiche. Ora, non è questo il caso, perché comunque Stefano Meller è proprio l'opposto. Però, ehm, tendenza a iniziare le cose e non finirle, che sia una progettualità di tipo lavorativo, scolastico, eccetera. Così come anche, mh, ehm, una totale, ehm, un totale non controllo sulla propria vita. E del resto Barbara Locci ci rientra con tutte le scarpe, poiché non era una donna indipendente a livello economico, non era una donna indipendente a livello affettivo, non era una donna indipendente a livello di, ehm, come dire, ehm, a livello esistenziale. Ed è classico questo, queste caratteristiche sono tipiche di chi è affetto da disturbo borderline. Quindi io, onestamente, mi sento anche di dire che la Locci potrebbe essere stata anche diagnosticata, oggi sarebbe potuta essere diagnosticata tranquillamente come una borderline. Barbara Locci è questa donna qua, ok? Faccio un po' di fatica, ragazzi, scusate, perché, ehm, veramente le cose da dire sono tantissime. E non è facile anche per me, ehm, proprio, ehm, riassumervi, ehm, riassumervi, questa, questa storia, ok? Perché le cose sono veramente tante. Quindi questi sono i due coniugi. Quali sono le figure di riferimento che entreranno in questa storia a pieno titolo? Ebbene sì, sono i cosiddetti famigerati, notissimi, ve li faccio vedere. Amma mia. Con in StreamYard è tutto un, condividi schermo, interrompi la condivisione, la condivisione, abbiate pazienza. I famigerati, fantastici, iconografici, oramai possiamo dire, fratelli Vinci. E adesso io ve li faccio vedere in tutto il loro splendore. Allora, questo è Salvatore Vinci. Questa versione è la versione in cui era ai tempi del delitto, quindi anche un bel tocco di manzo, secondo me, molto giovane, sui 30. E qui, ai tempi, penso, del processo degli anni 80 per l'uccisione di Barbara Steri, Barbarina Steri. Quindi parliamo di tanti anni dopo. Questo è Salvatore Vinci. E adesso vi faccio vedere Francesco Vinci. fratelli. Ok. Allora. Allora. Francesco Vinci. Eccolo qua. Mi arriva da ridi condividere schermo. Tanto per cambiare. Ecco a voi. Francesco Vinci. Bene. Fratelli. Anche loro sardi. Anche loro provenienti da una storia familiare veramente assurda. Tant'è che i due non avevano un buonissimo rapporto. Perché? Che era successo? L'altro fratello Vinci, Giovanni Vinci, aveva abusato della sorella di loro, che io non ricordo adesso ora come si chiamasse, la sorella di Salvatore e di Francesco, ma insomma era stata abusata sessualmente, quindi comunque un rapporto con stupro e incesto addirittura, da questo terzo fratello e mentre Francesco aveva preso le difese della sorella, Salvatore Vinci, in maniera del tutto veramente vergognosa, aveva preso le difese del fratello Giovanni. Ve la sto riassumendo perché non la so benissimo neanch'io la storia, ma all'incirca è questa la storia. Se leggete il libro Winchester calibro 22 di Davide Cannella, troverete la storia molto meglio di me spiegata lì dentro. Molto meglio di come me la sto spiegando ora io. Comunque, Salvatore Vinci protegge, continua i rapporti, continua ad avere rapporti con il fratello Giovanni. Francesco, giustamente indignato, schifato dall'atroce delitto, perché è un delitto comunque il fatto di fare sesso con una sorella, commesso, questo atto indegno commesso verso la sorella, si stacca definitivamente da Giovanni, si stacca definitivamente da Salvatore e tra i due ci sarà sempre un odio, soprattutto fomentato da Salvatore, attenzione, verso Francesco che si protrarrà fino alla fine dei loro giorni. anche questo elemento tenetelo ben a mente, ok? Che faceva la Steri? Barbarina, scusate, non la Steri, pardon. Anzi, parliamo anche di questo. Salvatore Vinci ha una moglie, Barbarina Steri, parliamo dei fine anni 50, con il quale concepisce il figlio Antonio Vinci, che penso conoscerete, tra l'altro abita a Prato, è giovane, ha una sessantina, 63-64 anni, vive, lavora, le sue tre figlie, mi sembra, non mi ricordo. Comunque, figlio che con Salvatore Vinci, anche lui, chiuderà i rapporti, quindi vedete che personaggio era Salvatore Vinci, perché, scusate, Antonio Vinci chiude rapporti con Salvatore e anzi, Antonio Vinci avrà sempre un buonissimo e strettissimo legame con lo zio Francesco Vinci. Perché? Che succede? Barbarina Steri viene stuprata da Salvatore Vinci. E quindi, come sapete, all'epoca, oggi, vabbè, fantascienza, anche se io non sono così contraria a questa pratica, visto il popò di ti puntini puntini che ci sono oggi in giro. Scusate, sono un po' tradizionalista, abbiate venia di me, abbiate pietà di me, e all'epoca, prima del matrimonio, non si poteva consumare sesso e quindi le donne dovevano arrivare vergini al matrimonio, come sapete. Barbarina Steri, ragazza molto seria, molto dolce, viene stuprata da Salvatore, tra l'altro Lula stupra proprio con l'intento di poi farla, come dire, obbligare a sposarlo, perché Lula voleva a tutti i costi. In seguito a questo evento drammatico, Barbara Steri è costretta a sposare Salvatore Vinci, il quale aveva una relazione anche sessuale con il fratello di quest'ultima, perché Salvatore Vinci è, perché è ancora vivo, bisessuale. Anzi, io direi trissessuale, cioè la terza sessualità, nel senso che uomini, donne e cavalli, perché veramente si faceva, ora no, quasi 90 anni, ma si faceva la qualunque e praticamente, quindi aveva una storia d'amore, scusate, una storia sessuale col fratello di quest'ultima, di Barbara Steri. E per questo poi intercetta Barbara per sposarsela e avere una famiglia. E con quest'ultimo fa il figlio, Antonio Vinci. Che succede? La Barbarina Steri ha un, vi sto ricostruendo in maniera cronologica, perché fare avanti e indietro, assalto, vi posso garantire che è difficilissimo poi per comprendere la vicenda. Quindi vi faccio un po' questo avanti indietro perché altrimenti veramente rischiate di non capire una mazza. Siccome questa è una storia che io ho sviscerato e sviscerato per tre anni e so benissimo quasi tutti i dettagli grazie al supporto di mostrologi che poi sono diventati miei amici, Enrico Balducci, Luca Mirri, Valerio Scrivo, anche Francis, anche se mi odia perché non la penso come lui sulla la colpevolezza dei CDM, compagni di merende. Enrico Manieri, ho parlato molto anche con Lorenzo Mencaccini, Daniele Bronzi, tantissimi mostrologi, ok? Vittorio White, ciao Vic, un bacio ovunque tu sia. Quindi so ricostruirvi in maniera cronologica più o meno veramente molto bene questa storia, spero molto bene, soprattutto in maniera comprensibile questa vicenda, perché è bene che comprendiate di cosa stiamo parlando, va bene? Anche per chi è sardista, nel senso io non condanno chi pensa che l'assassino sia Salvatore Vinci piuttosto che Francesco, però andiamo per ordine. Barbarina Steri ha un uomo nel suo cuore, una persona che occupa un posto predominante nel suo cuore, che è un tale Antonio. Io chiedo venia perché non ricordo il nome di, il cognome scusate, di Barbarina Steri, dell'uomo amato da Barbarina Steri. Facciamoci bastare Antonio, ok? Quindi insomma, Antonio è, ora vi faccio vedere Barbarina Steri, spero che la vediate. Eccola qua, una donna veramente dotata, secondo me, di grande bellezza, ok? Cioè, una donna veramente molto bella, secondo me. Ecco, qui si vede anche meglio. Scusate, l'allergia è imperversa. Allora, chiedo, cioè, sto usando un sito molto famoso, non appartiene a me, quindi questo sito è soltanto ad uso di, come dire, intrattenimento, non detengo i diritti di questo sito, sia ben chiaro, eh? Anzi, facciamo pubblicità. Questo è un blog, sì, io mostro di Firenze e mostro di Florence, che è veramente un archivio molto ricco, un po' come quello di Florence, insufficienza di prove, che è un archivio molto ricco, se volete informarvi sulla vicenda. Ecco, Barbarina è fidanzata di Antonio Pili, che è appunto l'uomo di cui è innamorata. Il 15 febbraio 59 nasce Antonio, che, come appunto vi stavo preannunciando, al quale Barbara, e qui mi viene strano, cioè mi viene una domanda, no? Come mai Salvatore abbia permesso a questa donna di dare a questo bambino il nome del suo amato, cioè Antonio Vinci, Antonio? E lì l'ira funesta di Salvatore. Che succede? Barbarina Steri muore nel 61, il 14, no scusate, muore il 14 gennaio del 1959, viene trovata morta in casa per sospetta intossicazione da gas e il caso viene archiviato come suicidio, vedete qui. Però, c'è un però, nel 1989, qui facciamo un flash forward, verrà il buon Salvatore Vinci indagato per l'omicidio di Barbarina Steri. Perché cosa c'è di strano? Io vi dico subito che, secondo me, lei si è suicidata. Da Tiziana Cantone a Mario Biondo, io quando c'è l'ipotesi suicidio sono più tendente a credere a quello che non ha l'omicidio, eccetto per il caso Pantani, che lì veramente credere al suicidio è veramente da follia pura. Perché quando ci sono delle criticità come una donna che viene stuprata, che deve rinunciare al proprio amore, che ha un figlio piccolino, una donna, lo vedete anche nei tratti somatici, buona, ok? Innocente, pura, nel vero senso della parola, una profilazione di uno scenario di suicidio, secondo me è più che logico e coerente come quadro, ok? Però c'è delle cose che non tornano, e anche qui vi rimando a Davide Cannella, che ci ha fatto veramente tante puntate, tanti libri su questa sua teoria, perché lui ovviamente, chiaramente la sardista è convinto che Salvatore abbia ucciso Barbarina Steri, perché si dice che Barbarina Steri avesse bisogno del gas, perché all'epoca c'erano le bobole a gas, per riscaldare del latte per il piccolo Antonio Vinci, per il piccolo Antonio, che aveva forse un anno, era ancora in culla, piccolino, e essendo carente di gas, di bombole di gas, si sarebbe arrecata dal vicino di casa a chiederne in prestito, ok? Quindi, secondo coloro che sostengono questo, io ho trovato queste fonti, ve le riferisco, perché l'ho trovato nel libro di Cannella, Winchester calibro 22, sarebbe inverosimile che lei sia morta di asfissia da gas, in quanto aveva bombole vuote, ok? E poi si sarebbero rilevati segni di strangolamento sul collo, in realtà su questo non ci sono prove autoptiche, però questo è. Ora, io ripeto, vi riconfermo che per me suicidio, per i motivi che vi ho detto poc'anzi, però ecco, mi viene così una riflessione. Una bombola, io lo so perché mia zia in Sicilia, la sorella di mia nonna, purtroppo ne usufruiva e quindi mi ricordo che mi facevano una paura tremenda queste bombolone, peraltro sono stata a Cotigliano, a Capodanno con dei miei amici, pochi mesi fa appunto, a dicembre-gennaio e anche lì, ovviamente essendo zone di montagna, non arriva il gas, il metano e quindi si esufruisce di queste bombole di gas e vi posso garantire che a me mi fanno una paura incredibile, tutto ciò che ha a che fare con gas, scaldabagni, a me mi mettono paura, che vedevo fa? Non ne faccio a questa roba, anche la caldaia quando le vedo un po' mi... c'avrò la fobia degli elettrodomestici? Non lo so. Comunque, una bombola contiene molto quantitativo di gas, non credo però che per uccidere una persona sia necessario svuotarla per intero. Vi pongo uno scenario di questo tipo. Barbarina è con questa bombola, ne è rimasto un po' dentro, si vuole suicidare, si inventa magari per autoconvincersi, magari per una sorta di protezione verso se stessa, una specie di undoing pre-morte, mettiamola così, di aver finito, di voler fare il latte per il bambino e aver finito il gas. Magari è proprio in virtù del fatto che quella bombola voleva utilizzarla per uccidersi lei. Prende questo gas, apre la sua bombola e si ammazza. Scenario alternativo. La morte è accidentale. Barbarina non si rende conto che la bombola è sgasata, è aperta. Crede che non vi sia dentro perché sta uscendo nel mentre. La barbarina va dalla vicina a chiedere il gas nel mentre che ritorna con queste scorte, anzi non mi ricordo se poi alla fine riusciranno a farsele prestare, questo onestamente non lo ricordo. Oramai è già, se è già dileguato, se è già, scusate, cosparso in tutto l'ambiente e muore disintossicato. Però effettivamente c'è un però. Il bambino è vivo. Antonio sopravvive perché a quanto pare era nella camera di là. Eh però ragazzi anche questo è coerente con uno scenario suicidiario perché se io voglio uccidere me, voglio bene al mio figlio e io non mi uccido rischiando di fare del male anche a mio figlio. Quindi io chiudo il bambino di là, se ne prendere a cura chi di dovere, sicuramente Salvatore perché si sa che i mafiosi sono, ah perché poi devo dirvi anche un'altra cosa, dopo ve lo dico, comunque sono persone vili, macciano i loro codici d'onore su bambini eccetera, anche perché è suo figlio, quindi segno della verilità, della procreazione e quindi io mi faccio fuori ma il bambino è vivo. Eh ma a me torna però ragazzi come scena suicidiaria. Anche perché, e parlo a tutti i miei amici sardisti, se Salvatore vince il mostro di Firenze non si capisce perché ehm, cioè voglio dire ammazzi una volta, ok, ammazzi due volte, vabbè, inizi a ammazzare la terza volta, insomma, poco dopo te li trovi carabinieri sotto casa, quindi non è una grande tattica quella di Salvatore vinci. Per cui era pericoloso uccidere Barbarina Steri e poi, come dico sempre io, perché non ha ucciso Rosina Massa, che mi risulta essere ancora viva e residente, non mi ricordo se appunto è all'Indiano, a Firenze, ma comunque è tuttora in vita? Qualcuno, non dico chi, mi ha risposto. Eh ma sai, ne uccidi una di donna ancora ancora, ne uccidi due ancora ancora, ne uccidi la terza, sei sotto casa, sei, viene arrestato sotto casa. Eh ma basta alla seconda ragazzi, non alla terza. Quindi, insomma, vabbè, vi dicevo, quindi questo fatto è importante per l'evolversi poi della pista sarda, perché quando nell'89 verrà aperto il processo per l'uccisione di Barbarina Steri, quel processo lì, istituito dalla corte, non mi ricordo da che corte, però in concomitanza delle indagini di Mario Rotella, il GIP che si occuperà del mostro di Firenze in quegli anni, è stato un modo per spingere poi per il coinvolgimento di Salvatore nella vicenda mostro. Cioè, se noi proviamo che lui ha ucciso anche Barbarina Steri, è un grosso assist per noi, per mettergli le castagne in mano, per così dire, per intrappolare, come dire, per far sì che ci credano a noi sulla tesi Salvatore uguale mostro. E quindi, per i sardisti, chiaramente, Barbarina Steri è stata uccisa. Che succederà? Sono passati tanti anni, dal 59 all'89 sono 30 anni, per cui non si hanno prove. Salvatore Vinci viene scagionato da tutte le accuse e non verrà mai incolpato per la morte di Barbarina Steri e di conseguenza mai veramente indagato per il caso del mostro di Firenze, per i delitti del mostro. Allora, è doveroso dire qualcosa però in più su questi fratelli Vinci, perché? Perché, come vi dicevo, Salvatore Vinci e anche Francesco sono persone non proprio raccomandabili, perché in quanto sardi e in quanto un po' mafioselli sono implicati nei malaffari dell'anonima sarda, come ben saprete chi ha un po' di masticatura sul caso, ok? Chi ha masticato un po' il caso del mostro. E anche questo non gioca proprio al loro favore, anche se Kuklinski, a parte, non è che sia proprio tanto frequente vedere un killer che da killer su commissione o criminale sfocia poi nella serialità e nella patologia mentale, che poi si esplica nell'uccisione per scopo personale da piacere psicopatologico come serial killer. Quindi anche qui attenzione, ok? Però Francesco Vinci era un po' il guascone, no? Come lo chiama Davide Cannella. Era un po' il il guascone della... tra i due fratelli, il donnaiolo, quello che se le faceva scutte, anche lui tanti figli, varie mogli, eccetera. Mentre invece Salvatore Vinci, personaggio molto ambiguo e poi diciamo che seppur particolare, insomma, delinquente, furti, abigeato, quello che volete, Francesco. Salvatore però, cioè se questo era Francesco, appena capirete che cosa ha fatto Salvatore, Francesco in confronto è San Francesco, cioè un dilettante in quanto a criminalità. Perché Salvatore Vinci, oltre appunto a commettere atti di stupro e a difendere anche coloro che commettono le stesse cose che fa lui, come il fratello che abusa della sorella, appunto. Ma, come vi dicevo, trisessuale, bisessuale, pansessuale oggi, in questo era un po' un predecessore, se vogliamo, a livello sessuologico, si faceva veramente la qualunque. Cioè, portava la moglie e anche la Locci. Ah, ecco, scusate, un passaggio. Allora, portava la moglie, Rosina Massa, appunto, a fare sesso con i camionisti in mezzo alla via, la costringeva a Trisom, Orge, eccetera. E poi era anche interessata agli uomini, quindi comunque aveva anche relazioni sessuali con gli uomini. E, attenzione, come si lega la coppia Locci-Mele con i fratelli Vinci? Perché Barbara Locci avrà relazioni extraconiugali e con Francesco Vinci e con Salvatore Vinci. Tant'è che un periodo per un periodo di tempo, proprio Francesco Vinci, lui, abiterà a casa dei Mele con Barbara Locci. Con buona pace di Stefano Mele, il quale si dice portare il caffè a letto a lei e alle sue, ai suoi amanti. Quindi lui, diciamo, come dire, cornuto, ma anche, cioè, ti porto la colazione a letto, cioè, grazie, no, del servizio di soddisfare mia moglie. Quindi questo era il personaggio oligofrenico Mele, ok? Io, tra l'altro, devo dirvi, credo che Stefano Mele e la Locci forse abbiano fatto sesso una volta e basta, cioè, per mettere al mondo natalino. Non credo che abbiano fatto altre volte sesso, cioè, si sono fermati al 61. Poi dopo, cioè, è finita lì la questione, probabilmente. Comunque, per un periodo Francesco vive a casa loro, poi lei lascia, in quanto amantide religiosa, lei lascia, scusate, vi ho fatto vedere Francesco Vinci, sì, ve l'ho fatto vedere Francesco Vinci, eccolo. Quindi lui vive dalla Locci per un periodo, poi lei lascia lui, la Locci lascia lui e a quel punto subentra il secondo fratello Vinci, cioè Salvatore, ok? Che, esattamente come con la moglie, pretende da Barbara Locci lo stesso discorso sessuale, lo stesso approccio sessuale, orge, camionisti, eccetera. Solo che questa non disdegna affatto. Però, diciamo che, anche qui, la relazione va a terminare e, ma la Locci non è che si ferma davanti a niente, però, di fatto, ha avuto relazioni sia con Francesco che con Salvatore e addirittura si narra che Francesco Vinci sia stato innamorato. C'è un biglietto celebre di cui parla anche Cannella nel suo libro, che Francesco proprio aveva dei sentimenti d'affetto veri per questa ragazza, era innamorato di Barbara Locci. Quindi non era soltanto un discorso sessuale, tanto è vero che la moglie di Barbara Locci, scusate, di Francesco Vinci lo farà condannare, arrestare e mettere in galera, perché lo denuncerà per, e qui ragazzi c'è un lapsus, a abbandono del tetto coniugale, ecco, all'epoca c'era questo reato qua, e quindi lui addirittura pagherà conseguenze grosse, una grande, io Rosina Massa la stimo tantissimo, no scusate, allora non è Rosina Massa, no scusate, Rosina Massa è la moglie di Vinci, scusate, mi sono confusa, la cosa Vitalis si chiama, mi sembra, la moglie di Francesco Vinci, che, cioè, è veramente una grande, perché riesce a fargli pagare le conseguenze dell'abbandono del tetto coniugale appunto, perché appunto in quel periodo lì lui si era trasferito dalla Locci e diciamo che la vita Vitalis, se non sbaglio, la moglie dell'epoca di Francesco Vinci non la poteva vedere questa donna, ovviamente ragazzi, perché, ecco, vedete, la Vitalia Vitalis per concubinaggio, vabbè, abbandono del tetto coniugale, ok, perché è comunque la donna usurpatrice dell'uomo, del mariso, aveva già dei figli piccoli, eccetera, e quindi diciamo che per Salvatore Vinci, la Barbara Locci era un oggetto sessuale, per Francesco Vinci era proprio l'oggetto dell'amore, dell'amore, insomma, della persona che occupava, cioè la persona che occupava il cuore di Francesco Vinci, così si narra. Che succede? Barbara Locci continua ad avere i suoi amanti, tranquillamente, beatamente, la situazione economica avversa in condizioni disastrose, malnutrita, il bambino ha, Barbara Locci e Stefano Mele danno alla luce il 25 dicembre 1961, il figlio Natalino Mele, chiamato Natale perché appunto nasce nel giorno di Natale, e come vi stavo dicendo, bambino tenuto in condizioni abbastanza tremende perché Natalino Mele vive in questa casa con il padre che porta il caffè a letto agli amanti e alla moglie, madre di Natalino. Questa donna che ha una serie di amanti veramente incredibili, quindi potete immaginare in che condizioni, tra l'altro famiglia abietta, quindi comunque senza disponibilità economiche a sufficienza e quindi, come dire, non è che le condizioni fossero delle più agiate. E diciamo che si dice che la Locci avesse questo vizio, questo vezzo di pagare delle scene ai amanti, di pagare lei durante le uscite con questi amanti. Che succede? Entra in scena, e qui ve lo faccio vedere, scusate, entra in scena un amante di Barbara Locci che si chiama Antonio Dobianco. Antonio Dobianco è un giovane di qualche anno meno di Barbara Docci, chiaramente, il quale è sposato, ha tre figli se non erro, nasce il 23 novembre nel 1939 a Palermo, quindi siciliano, trapiantato anche lui alla Strassinia in Toscana, e si è trasferito, Ivi, trasferito appunto in Toscana nel 1950, intorno agli anni 50, ok? sposato con una donna siciliana di nome Rosalia Barranca, da cui ha avuto tre figli, abita in via Manzoni, eccetera, eccetera, e fa il manovale. Quindi c'ha due anni meno di Barbara Locci, ok? Che succede? Conosce Barbara Locci, anche qui c'è varie versioni di come lui intercetta questa donna, mai l'avesse fatto, dico io, e diventano amanti, due diventano amanti, morendo poco tempo dopo, credo che abbiano avuto poco modo però di conoscersi, di fare sesso, quindi insomma una relazione abbastanza nata da poco, vi faccio vedere adesso Antonio Lobianco, eccolo qua, eccolo, lui Antonio Lobianco, iniziano questa relazione e la sera del 21 agosto 1968, e qui arriviamo al dunque, i due vanno al cinema Michelacci alla Strassigna, ok? Famoso cinema giardino Michelacci alla Strassigna, a vedere un film, però che succede? Il bambino, giustamente, sentendo la distanza della madre, insiste per salire in macchina con la madre e andare con la madre. La madre a quel punto, mossa da, così, sentimento di pietà per questo piccolo, di sei anni, gli diceva, vabbè dai, quasi sette, però ancora era agosto, lui gli faceva il 25 dicembre, quindi sei anni e mezzo, decide di farlo salire con loro e vanno insieme a vedere un film che, insomma, proprio per bambini non era, perché parliamo di un film, giapponese, ok? E qui esce fuori la regista, che è in me, cinema giardino Michelacci, che è nuda per un pugno di eroi, e per chi l'ha visto, sembra quasi il racconto del mostro di Firenze, di chi è il mostro di Firenze, film diretto da Yasuzu Masumura, che è stato un importante regista giapponese, scomparso nell'86, il cui film più famoso, appunto, nuda per un pugno di eroi, in giapponese, Akai Tenshi. Akai Tenshi. Di cosa parla questa storia, questo film? Ambientato in Cina, a Tien Tien, in un ospedale militare dove un'infermiera diventa un po', come dire, la referente sessuale dei ricoverati, a causa, appunto, della guerra. Quindi, chi è amputato, chi ha malte gravi, chi sta morendo, eccetera, eccetera. Film sicuramente vetato ai minori, e infatti qui c'è questo mistero del fatto che viene, perché all'epoca, oggi è molto più blanda il discorso censura. All'epoca, ragazzi, il discorso censura era veramente molto sentito, e un bambino, di fronte a un film del genere, non sarebbe dovuto far assolutamente entrare in un cinema, no? Rentre invece sto bambino entra e assiste alla proiezione di questo film insieme alla madre e all'amante. Tale zio, perché bambino chiamava, era solito chiamare gli amanti della madre, zii, bellino, no? Lo zio, lo zio questo, quell'altro, eccetera, erano tutti zii. Quando sentivate dire zio, si intendeva amante, vabbè, della madre. Vanno a vedere questo film, escono a verso le dieci, dieci e mezza, e siccome ovviamente lei, senza farlo, la locce non ce poteva stare, deve consumare. E dov'è che vanno a fare sesso? E qui torno alle mie adorate foto. Vanno qua, per l'appunto, a Castelletti di Signia, in questa specie di spiazzo, piazzola, come la volete chiamare, anzi, forse è la vera prima piazzola dei delitti del mostro, se vogliamo, questa. Ecco, vi faccio vedere anche questa foto qua. E vanno lì, sono le 23.30, un quarto a mezzanotte circa, il bambino dietro, chiaramente esausto, è addormentato, sdraiato, con la faccia da un lato e i piedi dall'altra, quindi nel sedile posteriore, ed è assopito, dorme profondamente, e nel frattempo, davanti, nel sedile davanti, Barbara Locci e Antonio Lobianco sono impegnati in un rapporto sessuale, scusate, va detto, nello specifico una fellazio fatta da Barbara ad Antonio, si sono invertiti i posti, perché lui va al posto del passeggero, lei va al posto di guida, perché altrimenti, insomma, fare una fellazio con il volante rischi le capocciate, questa è la motivazione, ragazzi, non c'è altra motivazione, è logistica e tecnica, ok? Se non che, arriva qualcuno che così punta la pistola prima a Barbara, poi a Antonio, e li fredda con dei colpi di calibro 22. Vengono ritrovati i cadaveri di Barbarina e di Stefano Mele, e scusate, l'apsus, e di Antonio Lobianco, perché? Perché cosa succede? Il bambino, non vi sto a parlare ancora della diatriba, ma Natalino Mele è andato solo, a piedi, è stato portato da qualcuno, mi l'invito a dirvi che Natalino Mele si presenta alla porta del De Felice, che se io adesso riesco a ritrovarvi le foto, vi dico con precisione, allora, questo è Antonio Lobianco, trovato sul sedile, come vedete, del passeggero, scusate se vi faccio vedere le foto, ma ve l'hanno ampiamente fatta vedere appunto a Crime Investigation, come può, come può testimoniare questo screenshot, allora, vedete, queste sono, ecco, questa è Barbara Locci, vedete, questo è il sangue del colpo al petto, proiettili, tra l'altro, donna affetta da calvizie, come potete vedere qui, ok? poi ho un aneddoto dopo su Natalino Mele che vi racconterò più tardi, quindi una donna anche non proprio attraente, ecco, ma questo insomma, ora, al di là di tutto, per dirvi insomma che parliamo di persone molto semplici, ok? Volevo farvi vedere, allora, questa, se non erro, è la veduta della casa del De Felice, ecco, penso sia questa qua, Natalino si affaccia al portone di questa villettina schiera, suonando il campanello e dicendo queste famose frasi rimarranno, che rimarranno, rimaste negli annali della mostrologia, ciao, mi apri il portone, ho sonno, mi apri il portone, perché c'è la mamma, e lo zio morti in macchina, una roba del genere, il De Felice, poverino, tra l'altro, è morto, investito, in maniera stranissima, di fronte casa, premesso che, sì, questa strada è molto trafficata e qualche stop non farebbe male, ma insomma, quanto poteva essere trafficata negli anni Ottanta, chiusa parentesi, De Felice si adopera, chiama i carabiniere della stazione di Signa, si mette in moto questa ricerca di questi corpi, il bambino viene chiesto di far vedere dov'è che si trovavano i corpi della madre e dello zio, che ancora non si sapeva essere l'amante, perché il bambino parla di zio, quindi sanno una sega i carabiniere e De Felice, nel frattempo il bambino gioca con il figlio, scusate, con i bambini di De Felice, che, così, per distrarsi un pochino, per distrarlo un po' dallo sciocco di avere visto dei cadaveri, e vengono rinvenuti questi due corpi, vi rimando le foto, vengono, questo che è all'inizio, vengono rinvenuti questi due corpi, Barbara, lei e Antonio, vedete, cioè, ragazzi, basta vedere la scena per vedere che è un classico omicidio di mostro, cioè, basta vedere questa scena qua, che cos'è che vediamo? Una coppia, e che cosa è successo a questa coppia? È stata uccisa dentro la macchina, che stava facendo questa coppia? Un atto sessuale, in questo caso un preliminare, ok? Come vedete, Barbara, scusate il termine, gli slip via abbassati, quindi, insomma, ancora siamo, e regge in mano una specie di fazzoletto, non si capisce bene, qui vedete, anzi, sembra un borsellino, per la verità, insomma, comunque, è un po' semi-nuda, e Antonio Lobianco, ora qui non si vede, perché è stata, la crime investigation, chiaramente, ha evitato di mostrare la scena per intero, ma vi posso garantire che qui, lui è in posizione proprio, come se si reggesse i pantaloni per tirarsene su, perché chiaramente, col fatto che lei le stava facendo una fellazio, lui, ovviamente, l'istinto è di coprirsi, tra l'altro qui è interessante, perché nel caso poi dell'81, Giovanni Foggi, tra l'altro, quindi vi rimando a un elemento mostrologico, verrà trovato con il pene ancora in erezione, scusate questi dettagli, ma sono importantissimi, e la, sarebbe interessante sapere, io questo non lo so, perché in realtà io ho letto anche i referti autoptici e non c'è scritto niente a riguardo, riguardo all'autopsia di Lobianco, ma se Lobianco fosse, una volta trovato sulla scena del crimine, con le parti intime esposte o coperte, perché anche questo ci dice tanto sul tempo di interazione tra l'assassino e le vittime, questo non ci è dato saperlo, mi informerò. Quindi, vengono trovati questi due cadaveri e questo bambino che appunto, loro capiscono che non si fa da come sono dalla posizione dei corpi, capiscono che non si tratta assolutamente di uno zio, ma si tratta di un amante della madre di questo bambino trovata morta. Allora, che succede? Ci si pone il problema di come questo bambino sia arrivato fin lì a chiamare il De Felice e del perché anche per certi versi questo bambino fosse con loro ma questo è rilevante più una curiosità nostra a livello sociologica e moralista a livello morale. Allora, ragazzi, volevo dirvi una cosa mi sta passando di mente ecco, volevo dirvi per tanti anni e anche qui il buon filastò buonanima ha sbagliato a riguardo si è sempre creduto che i due fossero in atto cioè stessero compiendo un vero e proprio atto sessuale con tanto quindi di penetrazione a causa di un errore di relazione del verbale che io quindi l'ho letto con i miei occhi e ve lo confermo perché tra l'altro scritti da più soggetti quindi sono anche molto difficili da leggere i documenti del 68 non sono proprio da manuale giudiziario ecco se vogliamo metterla su questo punto di vista cioè non è che sia proprio della roba scritta granché bene e questo ci dice tanto su cosa è stato commesso ai tempi ed è perché c'è questa grande confusione su questo delitto però diciamo che c'è scritto che i due erano uno sopra l'altro cioè lei era sopra di lui se io vi dico che lei era sopra di lui voi pensate che lei era cavalcioni e stava facendo il sesso con lui con un atto penetrativo in realtà lei era sopra di lui e quindi sbagliatissimo come termine nel senso che era proprio sopra cioè lei le stava facendo una fellazio quindi col fatto che era sopra di lui non è che il mostro non ha spostato i cadaveri semplicemente lei non ha avuto il tempo di girarsi completamente in quanto era chinata e infatti il foro di pistola di proiettile gli passa la schiena ok perché altrimenti non tornerebbe perché cosa è successo questa cosa di lei sopra di lui è nata fuori quando Zuntini fa la sua perizia ma la perizia di Zuntini è sbagliata ragazzi non lo dico io lo dicono fiorfiordi periti malistici che l'hanno studiata poi dopo negli anni perché altrimenti il tramite dei colpi non torna lei viene colpita di schiena perché in quanto ed è per quello che si ricostruisce che lei le stava facendo una fellazio perché c'è il colpo dietro la schiena che è questo qua lo vedete questo qua è questo ok quindi facendo questa questa azione su lo bianco in realtà non è che l'assassino divide i corpi semplicemente lei una volta che riceve questo colpo probabilmente si sarà accasciata sopra le parti intime di lo bianco l'assassino una volta finito sparerà otto colpi i famosi otto colpi della munizione Winchester della calibro 22 cosa fa il mostro ripone sul sedile come vedete qui Barbara Locci il lo bianco non lo tocca minimamente perché non è il fulcro del suo interesse nella sua ossessione per certi versi e questa cosa viene fatta come vedete le rinfila su le mutande gli slip voi direte vabbè questi stavano facendo sesso orale lei a lui ma non sappiamo cosa avesse fatto lui a lei nel senso che nell'eccitazione magari stai lì per sporiarti non sai bene cosa fare poi fai sesso orale poi magari cioè nell'eccitazione ragazzi non è che uno sta pensando le mutande me le tolgo dopo quindi questo è gossip però c'è questo gesto di ricoprire le parti intime allora sicuramente è una un gesto che ci fa intuire che la persona che ha ucciso Barbara Locci Antonio De Bianco aveva l'interesse di molto forte per Barbara e come dire è una specie di undoing verso gli organi femminili sessuali certamente però un undoing tu vai a tutire un impatto allora sicuramente la spiegazione più logica è che la visione della vagina per l'assassino non fosse un qualcosa di così sereno perché altrimenti non credo che avrebbe coperto la parte diversamente l'avrebbe esposta ancora di più e magari avrebbe fatto un'azione di overkilling avrebbe fatto un'azione di come dire esplorazione per quella parte del corpo della donna dal momento che non la fa io sono propensa a pensare che si tratta di una persona molto giovane un uomo che ancora con quella parte del corpo non ha avuto modo di fare conoscenza passatemi l'espressione un po' buffa ok un po' eronica per cui vi dico che secondo me la persona in questione all'epoca era molto molto giovane ipotesi 2 il tirare sugli slip è riconducibile a un ricomporre l'immagine idealizzata che lui aveva di questa donna mi spiego amante essere spinto amante amante in quanto innamorato di Barbara Locci e quindi tu vieni poi viene spinto scopri dopo la vera natura di Barbara Locci che non era donna romantica ma donna disinibita sessualmente che in qualche modo profana la tua idea che tu ti eri fatto di lei sconvolto da questo non può avere me non potrà avere neanche più nessun uomo oltre a me se non avrà me uccidi lei e l'amante ma a quel punto sul corpo hai modo di poter fare il cosiddetto staging di poter fare un'azione che vada a ricomporre un po' idealmente l'idea la versione idealizzata di Barbara cioè la donna pura la donna romantica la donna sensibile la donna dolce che tu desideravi e quindi ti copro ti tiro su i slip perché ti ricompongo idealmente per come tu sei nella mia mente ok e questo depone a favore della teoria per chi la sostiene io no di Francesco Vinci killer perché Francesco Vinci era l'amante respinto e innamorato di lei ok quindi come vedete è molto interessante perché si apre a vari scenari a varie ipotesi chi è convinto che a uccidere sia stato Stefano Mele ti dice che quel gesto di coprire tirare su gli slip è un gesto di pudore da parte del marito no secondo me ma perché ragazzi perché se fosse stato un marito che si ribellava e non accettava il fatto che la moglie lo riempisse di corna allora poteva anche starci cioè ti ricompongo e ti ridò dignità per mia moglie e quindi perciò come se idealmente ti tiro sulle mutande così non farei più quello che con quella roba lì tu facevi no cioè tradirmi ok ma siccome non era il caso di Stefano Mele che il quale invece era tranquillamente con indifferente a queste queste relazioni extracognugali della moglie tra l'altro non vi ho detto che lo stesso Stefano Mele partecipava alle orgette di Salvatore Vinci e aveva rapporti a tre sia con Barbara e Salvatore insieme nello stesso letto quindi tra l'altro non ci vuole molto a fare sesso con un oligofrenico vista la condizione in cui versa a livello psicologico no quindi come vi dicevo questa cosa degli slip abbassati o meno secondo me è più indicativo di un killer molto giovane che poi è quello che pensava anche Filastò la visione della vagina lo turba c'è poco da fare per un verso o per l'altro non tocca minimamente il corpo dell'uomo infatti tant'è vero che viene trovato esattamente così come è morto il sedile come vedete è reclinato perché per faciliti questo documento per facilitare la come dire scusate è brutto da dire ma la fruizione dell'atto sessuale in maniera piacevole anche più rilassante probabilmente anche per percepire meglio l'orgasmo scusate se vado nel dettaglio però ecco una cosa interessante questa cosa di interagire col corpo femminile coprendo la parte intima della donna con gli slip ritornerà sapete in che delitto nel 74 sette anni dopo quindi la teoria dell'amante respinto perché qui lui non ha esperienza è giovanissimo e copre la vagina che farà invece nel 74 ridicolizzerà la vagina col tralcio di vite perché a quel punto inizia a capire che la donna in mezzo alle gambe ha un qualcosa che potrebbe interessarlo e potrebbe come dire essere causa sia del suo bene ma anche del suo male in un certo senso e quindi con questo cambio di prospettiva cioè da ti proteggo a ti violo anzi ridicolizzo proprio con questo tralcio la matrice è la stessa ragazzi amante respinto peraltro mi sta venendo in mente adesso come ce li ha i capelli la Barbara Locci corti come li aveva la Stefania Pettini i capelli nel 74 corti certo 32 anni a fronte dei 18 della Pettini per carità parliamo anche di un'altra epoca cioè nel senso mettiamo caso a questo personaggio quando ha iniziato a uccidere aveva 16 anni quindi siamo nel 68 a 16 anni nel 74 69 70 61 63 64 6 anni dopo lui ha 17 18 19 20 22 anni la Pettini la Pettini nel 68 aveva 10 anni quindi insomma 9 10 anni per cui lui 22 nel 74 la Pettini ha 18 ci sta benissimo che la primissima cottarella è per una donna molto più grande di te e invece poi la passione vero il vero interesse quindi la loci in prospettiva di curiosità verso la donna la figura femminile che è il materno la ricerca costante dell'uomo di trovare una donna che ricordi sua madre questo vale dai tempi dei tempi ragazzi che poi si concretizza nel 74 con l'emancipazione dalla figura femminile materna e poi si esplica proprio nell'esplorazione sessuale del mondo femminile tra l'altro la Pettini era una ragazza molto carina e quindi con la voglia veramente cioè con la passione proprio femminile che si slega dalla curiosità mi viene in mente non so se avete visto Malena di Malena di Giuseppe Tornatore film del 2000 con la Bellucci un film molto bello molto commovente nonostante la tematica non facesse presagire come dire la commozione che il film suscita vi consiglio di vederlo in versione estesa non nella versione ridotta distribuita dalla Miramax negli Stati Uniti perché insomma loro tagliano vabbè il bambino protagonista di quel film ha proprio un innamoramento verso la Bellucci ma non è un innamoramento inteso sessualmente come anche Leon con la bambina Natalie Portman con Jean Reno con Leon è quell'innamoramento dettato ancora dal bilico tra pulsione sessuale e desiderio di attaccamento genitoriale quindi la Loducci io la vedo più in questa dinamica in questa ottica qui è nel 74 che si parla poi veramente di innamoramento e di prima pulsione sessuale per una donna vera e propria ecco perché il tralcio di vite leggermente appoggiato però c'è allora io temo che non basti non basti un video per parlarvi del 68 purtroppo col discorso mostro è così vi concludo soltanto anche perché ho da fare vi concludo dicendo che a seguito di questa uccisione dove pensate che saranno finiti inizialmente sospetti ma ovvio sul marito cornuto Stefano Mele il quale commette un fatale errore appena i carabinieri si presentano da lui lui dice anzi no i carabinieri vanno nel palazzo dove abita Stefano Mele lo cercano perché non sanno chiaramente qual è il campanello lui si affaccia ma cercate me e lì 2 più 2 fa 4 anche se poi nella realtà non fa 4 in quel caso e entrerà a piano titolo tra i sospettati mi sa che dovrò fare una seconda parte breve ma la farò io per il momento vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale per i prossimi video e la prosecuzione del questo podcast audio vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti Grazie.